What, 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 what Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel WoW Oggi abbiamo All New Incredibile Avengers Allora, questo fumetto è bellissimo Il titolo è Fuga dal pianeta X Se non sbaglio, nel fumetto precedente è stata distrutta la Terra o un altro pianeta, non mi ricordo Non sono riuscito a capire Poi ve lo spiegherò in un prossimo video Allora, qua ha un nuovo inizio, come al solito Questa è Cover B, Cover Animal In cui ci sono tutte l'Ontre Forte, fa ridere soprattutto Wolverine Allora, contiene Avengers sotto copertura Che sarebbero dei ragazzini con superpoteri, bellissimo E poi contiene Miss Marvel, la prima supereroina inumana Che, vabbè, me ne sono vi dico niente su di lei Allora, il costo è 3,50 euro pubblicato mensile settembre 2014 Questo è il numero 17 Allora, possiamo vedere qua Allora, contiene sempre i numeri incredibili Avengers Avengers sotto copertura e Miss Marvel Allora, qua possiamo vedere qualcuno il fatto di segno Allora, ecco, questo è Avengers Undercover Vabbè, sotto copertura in italiano Sarebbero questi personaggi E poi abbiamo Vabbè, questa pubblicità Miss Marvel, numero 1, bellissimo Che sarebbe un'India, no, una musulmana Che poi scoprirà di avere superpoteri Allora, qua, ecco Metamorfosi Allora, questo è il solito Marvel Now Che sbaglio, nella testa si chiama Marvel Wow E questo è il checklist Il prossimo commento è Kang, il conquistatore Per questo video è tutto E ci vediamo poi